Ciao a tutti, mi chiamo Emanuele e sono il creatore di Blue Helmet, oggi vi spiegherò in poche parole in cosa consiste la mia invenzione. Innanzitutto questo casco si distingue da un casco normale grazie all'intelligenza artificiale di cui è suo dotato. L'intelligenza artificiale, con un insieme di sensori posti al suo interno, è in grado di rilevare collisioni in caso di incidente. Quindi supponiamo che un motoveicolo parcorra una strada extraurbana poco trafficata e in condizioni meteorologiche non favorevoli si può verificare un incidente. In questo caso il casco, grazie a un sensore di collisione, rileva l'incidente, geolocalizza l'utilizzatore, in questo caso il motociclista, rileva la sua posizione e manda in automatico un sms di soccorso, di richiesta di soccorso, a un numero predefinito memorizzato all'interno di una sim, all'interno del casco. Quindi in poche parole, il casco funge da scatola nera e in caso di incidente e collisione ci sarà sempre qualcuno che saprà dove ti trovi, cosa è successo e la gravità della situazione. Questo è un prototipo base, a prima vista è un casco normale, ma al suo interno la tecnologia di cui è stato dotato gli permette di diventare non più un casco che offre una protezione passiva, ma un casco che offre protezione attiva. In questo caso, così come siamo passati da telefoni normali a smartphone, ora passiamo da caschi, a caschi intelligenti. Smart Helmet!